Ci troviamo in Politec con Giuseppe Garro, General Manager. Politec è un'azienda italiana specializzata nei perimetrali, che da sempre produce in Italia. Perché questa scelta? Politec è un'azienda nata circa 30 anni fa, dalle mie esperienze e dalle mie idee, e ho sempre sviluppato tutti i progetti in Italia. Non ho mai pensato di portarli all'estero. Questo perché abbiamo tanta intelligenza nel nostro paese e in questo modo la possiamo mettere a frutto. Quali particolarità rendono Politec leader di mercato? Noi al nostro interno sviluppiamo totalmente quello che è il nostro prodotto, partendo dall'idea che poi viene tradotta in veri e propri progetti e quindi in prodotto. E che cosa facciamo? Facciamo tutto dall'A alla Z, quindi dal prototipo di tipo meccanico, il prototipo elettronico, sviluppiamo tutti i firmware, tutti i software, che servono poi per la gestione di quelli che sono i sistemi gestiti a distanza e sviluppiamo anche quindi la prototipazione e il design degli aspetti meccanici del prodotto e successivamente alla prototipazione sviluppiamo anche lo stampo all'interno della nostra fabbrica. Abbiamo sviluppato diverse tecnologie, per esempio per l'allineamento facilitato, quella che abbiamo chiamato la SMA, che è il Single Man Alignment e queste tecnologie tra l'altro ci hanno consentito di accedere a mercati impensabili fino a qualche anno fa. Oltretutto produciamo in OEM per molte aziende, quindi produciamo prodotti con marchi di altre aziende e questo ci rende particolarmente orgogliosi, perché molte aziende famose, con brand famosi, hanno creduto ai nostri prodotti e quindi ci hanno permesso di produrli con il loro brand. In questo specifico momento tra l'altro ci sono grandi novità. Chi è Politec 2.0? Politec 2.0 vuole essere un cambio di strategia commerciale radicale. Abbiamo appositamente creato un nuovo team con un nuovo responsabile commerciale Italia, un ufficio marketing e quindi con tutte quelle risorse necessarie ad attuare questo nuovo cambiamento. Il cambiamento sarà molto interessante per tutti i nostri partner sul territorio e prevede un cambio radicale, perché vogliamo diventare parte attiva e creare un nuovo modo di relazionarci con i nostri partner e un nuovo modo di commercializzare i nostri prodotti. Concludendo quindi, quale la sua visione sul mercato della sicurezza a breve e medio termine? Il mercato della sicurezza è proiettato verso le nuove tecnologie, verso la possibilità di gestire ogni singolo apparato, ogni singolo device con delle app, quindi in maniera smart, diciamo, sul telefonino. Questo è il domani ed è proprio in questa direzione dove noi stiamo andando, dove stiamo ricercando. Tutti i nostri progetti futuri saranno orientati a queste nuove tecnologie, a partire dalla barriera, a tutti i sensori che man mano riusciremo a sviluppare e che nel futuro faranno parte della proposta verso i nostri nuovi partner.